Siamo che cosa hai fatto questa volta guarda lascia stare e non credere a chi ti dice il contrario lo sport fa male non è che lo sport fa male caro mio è che sei vecchio non c'hai più l'età adesso baci piano e voglio vederti in palestra con me bene bene quando vuoi ti sfido amici e spero che invece voi siate super allenati perché la top 5 di questa settimana è dedicata proprio ai giochi sportivi più attesi di questa stagione seguitici e scegliete il vostro sport preferito l'ultima parte dell'anno tradizionalmente ospita una grande quantità di titoli sportivi pronti ad infiammare tutti i giocatori amanti delle grandi competizioni e dell'agonismo più sfrenato il 2012 non è da meno e le ludoteche degli appassionati sono pronte a riempirsi con i capisaldi di ogni simulazione dalle corse su pista al calcio spettacolo passando per il basket e il wrestling nella nostra top 5 di questa settimana ci soffermiamo sugli sportivi più caldi di questa stagione nuova incarnazione del realistico milestone world rally championship 3 arriva con molte novità sfruttando l'aiuto dei piloti reali che si sono prestati come consulenti per migliorare l'intelligenza artificiale e la fisica di gioco il titolo implementerà una gestione del veicolo più credibile feature come le precipitazioni atmosferiche un comparto grafico rivisto contribuiranno inoltre a coinvolgere maggiormente l'utente per un prodotto davvero eccezionale se anche l'online verrà curato con la stessa attenzione i fan avranno di che divertirsi grazie a questo ottimo titolo in uscita ad ottobre double double e 13 è il consueto update annuale del brand di successo legato alla licenza ufficiale worldwide wrestling entertainment quest'anno oltre al miglioramento della fisicità dei lottatori il team ha previsto tutta una serie di introduzioni in termini di roster proponendo quella che è forse la più grande selezione di stelle di tutti i tempi il feeling televisivo il comparto audio l'altissimo numero di sfidanti e l'opportunità di rigiocare i più importanti eventi della storia del wrestling del passato sono tutti i fattori che potrebbero consacrare double double i 13 come il migliore episodio della serie degli ultimi anni il famosissimo simulatore cestistico firmato 2k torna in una versione rifinita e perfezionata le modifiche al gameplay di nba 2k 13 sono mirate a smussare alcune delle problematiche della scorsa edizione per una simulazione davvero definitiva quest'anno inoltre troveremo l'all stars weekend nella sua forma originale con divertenti quick time event per riprodurre tutte le più grandi schiacciate della storia del basket nba la grande mole di atleti di oggi e del passato è il fiore all'occhiello di una produzione eccezionale anche per mole di contenuti la grafica sfiora come sempre il fotorealismo e la qualità delle animazioni vivacizza ogni match quest'anno il calcistico di casa konami si rinnova pro evolution soccer 2013 abbandona la rigidità dei capitoli precedenti per far spazio ad un nuovo sistema per il controllo della palla di prima molto migliorata anche la caratterizzazione dei campioni sul campo ognuno con i suoi gesti e le sue movenze la libertà di gioco nei movimenti offensivi e difensivi sostiene una buona fluidità mentre la varietà di giocate appare ottima pes 2013 si appresta insomma ad entusiasmare i fan e probabilmente a far ricredere una buona fetta di detrattori dopo la rivoluzione dello scorso capitolo fifa 13 punta ad una rifinitura del gameplay il nuovo capitolo avvalendosi di un controllo di palla ancora più personalizzato ed approfondito e di un intelligenza artificiale finalmente in grado di smarcarsi senza palla è la summa definitiva della simulazione calcistica il contorno di modalità solido e funzionale è capace di offrire ancora qualche valida alternativa alla fine di una generazione ormai agli sgoccioli questo fifa 13 come e più di molti altri capitoli sarà certamente in grado di segnare indelebilmente lo sviluppo dei videogiochi sportivi conquistando tutti gli amanti del grande calcio videoludico